Ritorno all'appuntamento contro le righe, incontro con l'autore. Oggi parliamo di social media. Quali sono i segreti che si nascondono dietro i social e scopriremo anche perché e come sono entrati prepotentemente nelle nostre vite professionali, private e anche sentimentali. Lo facciamo grazie ad un giovane scrittore, lui un ingegnere informatico originario di San Giovanni d'Otondo ma ormai vive e lavora a Milano, Francesco Marchesani. Ciao, ben trovato Francesco. Ciao, ciao Paola, ben trovato. Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Allora, Uno, Nessuno e social media. Sì. È uno dei tuoi ultimi libri che hai scelto appunto questo argomento così vario ma anche affascinante quello dei social. Come mai, come nasce l'idea di questo libro? Beh, sostanzialmente l'idea nasce da un'elaborazione moderna di Pirandello, no? Lo stesso titolo è un richiamo a Uno, Nessuno e Centomila, un famoso romanzo del Novecento italiano. Io ho compreso con i miei studi, con le mie passioni nel mondo dell'informatica e dei social stessi, come le maschere moderne siano effettivamente celate dietro questi strumenti che usiamo giorno dopo giorno. E la mia idea sostanziale è stata quella di provare, diciamo, ad avventurarmi un po' come Ulisse in questo mondo così sconfinato, tortuoso tante volte, per capire cosa effettivamente si va ad accelare dietro i social media, ecco, che usiamo in maniera così capillare tutti i giorni. Quindi questo è stato un po' il tema del romanzo, del saggio, ecco. L'indice riporta per capitoli i vari argomenti che tu affronti, ce ne sono diversi, molto interessanti. Ha colpito la mia attenzione, pagina 56 si parla dei segreti della psicologia del mi piace, che quando troviamo un mi piace su Facebook, quando qualcuno clicca mi piace ad un contenuto che abbiamo condiviso, oppure un cuore su Instagram, abbiamo una scossa di dopamina, no? Certo, sì. Sostanzialmente la base del mi piace è biologica. Quindi i social media, per quanto facciano parte della sfera digitale, quindi siano stati creati tendenzialmente da ingegneri informatici o affini, hanno delle basi psicologiche molto importanti, ci sono stati anche degli studi dietro. Lo stesso mi piace, che è stato uno dei fattori di successo di Facebook. Ogni social, diciamola, tra di noi sostanzialmente ha uno o più meccanismi di successo, no? Molto semplici, molto basilari, che hanno permesso il successo di questi social media. Zuckerberg, che è il creatore, amministratore delegato di Facebook, ha avuto successo proprio quando ha permesso sostanzialmente di mettere dei mi piace a delle persone che frequentavano la sua università. Quindi c'erano le immagini presi dall'annuario dell'università che frequentava Zuckerberg, c'è la possibilità di mettere mi piace a queste persone, e il social è sostanzialmente già esploso nel contesto americano tramite questo espediente. Perché? Sostanzialmente perché avere un apprezzamento a livello psicologico, ci fa rilasciare dopamina, il cosiddetto ormone del piacere. Lo stesso ormone che viene rilasciato, ad esempio, quando mangiamo del cioccolato, per farsi un'idea. Oppure c'è una vincita, oppure c'è qualcosa, insomma, di positivo. Esatto, esatto, esatto. Però poi non abbiamo fatto i conti con quanto i social oggi influenzino le nostre vite, anche un po' la nostra privacy. Sì, diciamo, uno dei temi che si inizia a trattare, per fortuna, anche negli ultimi tempi con alcune normative come il GDPR, ci fanno rendere conto di quando sia importante la nostra privacy personale. Privacy è una parola inglese che viene però da una parola latino, privazie, che significa mistero, segreto. Quindi tutelare la nostra privacy, le nostre informazioni, la nostra stessa essenza, sostanzialmente, significa prima di tutto tutelare una parte importante di noi stessi. Non dobbiamo dimenticarci che il paradosso dei social è quello che, mentre nascono proprio per condividere informazioni con una, diciamo, una platea virtuale, diciamo, tendenzialmente anche di miliardi di persone, no? Nascono per condividere sostanzialmente, però c'è il rovescio della medaglia che è quello della divulgazione di informazioni sul nostro conto. Accedendo ai social media, sostanzialmente, qualsiasi persona può vedere ciò che facciamo, tracciarci, quindi c'è, chiaramente, una dinamica di protezione delle nostre vite. Dobbiamo condividere, ma con accuratezza, diciamo, con consapevolezza di ciò che andiamo a condividere e con chi. Esatto, infatti tu, il capitolo dedicato alla privacy si intitola proprio questa sconosciuta, perché forse non siamo consapevoli, fino in fondo, di quanto un click, una condivisione, un postare, una foto delle nostre vacanze, poi influenzino sulla nostra vita. Poi, ecco, un altro capitolo molto interessante riguarda l'odio sui social, i cosiddetti haters, gli datori, i leoni da tastiera, coloro che scrivono anche le cose più brutte e meschine nascondendosi dietro un nome falso o una tastiera del computer. Sì, questo è un altro problema del mondo digitale. Diciamo che internet nasce un po' in un contesto anarchico. I primi tempi di internet erano scarsamente, diciamo, regolamentati, se vogliamo. Quindi internet nasce quasi nell'anonimato, con utenze che, c'era un nickname all'inizio, no, sostanzialmente, per poi passare a utenze vere e proprie, proprio con i social media, dove il nickname veniva sostituito dal nome e cognome della persona. Spesso però dietro a questi account fake, oppure dietro a questi nickname, sì, c'erano delle persone che tendono appunto a esternare un sentimento negativo come quello dell'odio nei confronti di prodotti, aziende, ma anche persone. Talvolta loro si sentono, queste entità si sentono coperte proprio per la pseudo-anonimità dei social, però sostanzialmente quello che ne deriva comunque sono questi fenomeni anche gravi di odio. Dal punto di vista psicologico, l'odio ha tante possibili ragioni. Spesso nasce da un'insoddisfazione, no, di base della persona che tende a odiare l'altro proprio perché non si sente valorizzata, non si sente felice. È un fenomeno e come tale va trattato e va discusso. Io ho cercato di dare degli spunti su questo fenomeno, cercare di comprenderlo e tracciare una linea per provare ad arginarlo, almeno a, diciamo, evitare che sia troppo impattante nelle nostre vite. Tu sei giovanissimo, Francesco. Ti senti, non so, di dare dei consigli utili su come utilizzare al meglio e non farsi utilizzare dai social? Sì, è difficile. Io, quello che sto provando a fare, ecco, con il libro, ma anche in generale con le mie conoscenze, è cercare di creare consapevolezza. E' una cosa che viene spesso trascurata. Io mi occupo di sicurezza informatica. Anche lì, molto spesso, la consapevolezza è la chiave per evitare truffe, attacchi e così via. La stessa cosa vale per i social. C'è una famosa frase che dice che la conoscenza è potere. Quindi, prima di tutto, noi dobbiamo, diciamo, renderci consapevoli di ciò che ci circonda. Comprendere questo sconfinato universo che è il mondo reale, ma anche il mondo digitale, che ormai è diventato un tutt'uno con il nostro spaccato reale. E quindi comprendere il mondo che ci circonda è la prima chiave per capire l'epoca in cui viviamo e per viverla al meglio. Al meglio. Sì. Vorrei solo concludere con... C'è anche un capitolo dedicato all'influencer. Sì. E poi a chi riesce a diventare famoso anche, chi riesce a vivere, chi ha fatto dei social un lavoro, una professione. Sì. Sostanzialmente i social sono un mezzo di comunicazione. Sono un'opportunità. Ecco, leggiamoli in questo senso. Come tutte le opportunità possono essere usate in senso positivo o negativo. Se i social vengono adoperati per portare avanti una passione, come spesso succede in questi casi di successo, che ho trattato alla fine del libro, per far conoscere al mondo in maniera capillare ciò che si ama fare, ciò che si sa fare, secondo me diventano uno degli strumenti che sono più importanti per l'attuale umanità. pensiamo, non so, se grandi persone del passato, se Dante, piuttosto che Manzoni, avessero avuto i social, cosa avrebbero potuto fare. Viviamo in tempi in cui abbiamo tante armi, ecco, per interfacciarci, per avere a che fare col mondo intero. Vanno usati bene. Bisogna conoscere i rischi e le potenzialità. È chiaro che se si fa leva sulle potenzialità dei social, esprimendo creatività, esprimendo qualcosa che può fare del bene, agli atti, che può essere di valore, si creano questi famosi casi di successo dei quali ho provato ad abbozzare qualche storia divulgativa, diciamo. Bene, allora noi non raccontiamo queste storie perché potranno leggere direttamente nel tuo libro intitolato Uno, nessuno è social media di Francesco Marchesani. Dove possiamo trovarlo? Dove possiamo, attraverso, immagino, sul web, no? Lo possiamo acquistare? Sì, sì, in pieno stile digitale sostanzialmente il libro è disponibile su Amazon, il più grande, diciamo, marketplace online, sia in formato cartaceo, che è questo che, diciamo, potete vedere nelle nostre mani, ma anche in formato digitale, in formato ebook sostanzialmente, quindi per letture, diciamo, anche orientate al mondo digitale. È un po' più pratica, uno non si porta 7-8 libri in valigio, magari, o in giro. Esatto, va a compattare, va a usare il digitale per la lettura, che è una delle cose più belle che ci siano in questo mondo, ecco. Bene, non potevi lanciare messaggio migliore in una rubrica che, appunto, riguarda i libri e invita gli scrittori a presentare i loro lavori. Ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie, allora, Uno Nessuno e social media di Francesco Marchesani. Grazie ancora e ti aspetto al prossimo libro. Va benissimo, grazie mille. Grazie mille.